Oh, giovani amici di Facebook, torniamo a parlare di droni qui su Incaut Unboxing con questo nuovissimo Parrot Bebop Drone 2 sono stato invitato a Milano a un evento organizzato da Parrot di presentazione proprio di questo nuovo drone consumer dico consumer proprio per specificare che questo tipo di droni Parrot è proprio destinato al mercato un po' più casual quindi non hardcore, non ha per intenderci una supercamera stabilizzata come possono avere i droni di DJI o di altre marche ovviamente molto più costose di questo qua per fare un paragone super veloce che forse ha poco senso però vi fa capire la scalata verso questo tipo di prezzi sapete benissimo, per esempio l'avete visto qui su Incaut Unboxing un nano drone come questo sta sui 15 euro con il suo telecomando di controllo se volete salire un pochino più di prezzo c'è un X4 come questo che è molto famoso online ha il suo telecomando super sbuccione così fighissimo lui è molto più facile da comandare ma comunque non ha GPS e altri sistemi di autocontrollo per cui sarete sempre voi a dover compensare e pilotarlo per davvero questo sta attorno ai 50 euro il passaggio da questo tipo di drone quindi non assistito a un drone come questo di Parrot super assistito che vola stabile e ha una camera di buona qualità non ottima qualità ma di buona qualità è comunque altissimo perché si passa appunto dai 50 euro a questi 550 euro per il Bebop Drone 2 mandiamo oltre e spacchettiamo questo bel drone allora appena aperto Know Before You Fly quindi un po' di indicazioni generali dei do and don't sia per il mercato americano vedo quindi è tutto marchiato Federal Aviation Administration quindi sono più o meno le regole da seguire per il mercato americano sappiate che in Italia fondamentalmente l'uso diciamo personale non professionale di questo tipo di droni è praticamente libero se non stando attenti a non farlo volare in luoghi affollati il termine luoghi affollati nella legge italiana è abbastanza generico fondamentalmente state attenti a non farlo volare quando c'è troppa gente in giro c'è un'altra quick start guide qui che adesso non leggo ma che metto da parte allora abbiamo un accessory box qui con un po' di cose che guardo dopo una diciamo sicuramente il caricatore della batteria o qualcosa di simile dopo lo scopro la batteria vera e propria del drone in questo Bebop 2 è stata migliorata moltissimo rispetto al primo Bebop sia in durata perché adesso si arriva a 25 minuti di volo effettivo sia anche proprio nella qualità della batteria nel primo Bebop era più scomodo invece in questo Bebop 2 è molto più comodo la batteria si inserisce comodamente sopra il drone ed è oltretutto la stessa batteria che viene data anche insieme allo skycontroller di cui vi parlo dopo che è un accessorio extra interessante dentro poi c'è il drone vero e proprio che è questo in questo caso nella sua versione bianca e nera esiste anche rossa e nera per il resto ovviamente sono identici dentro alla scatola ci sono poi 8 diverse eliche chiaramente se ne usano 4 alla volta quindi c'è un ricambio completo per ogni elica le eliche tra di loro non sono uguali quindi vanno montate nella maniera giusta sono uguali a coppie diciamo quindi per ogni su un drone ce ne vanno due di un tipo e due dell'altro semplicemente perché girano due in senso orario e due in senso anti-orario due bianche e nere in modo tale che si possono montare sul lato frontale due eliche bianche sul lato posteriore due eliche nere e questo aiuta moltissimo quando il drone è in volo per capire fondamentalmente qual è il davanti e qual è il dietro sembra una sciocchezza ma è molto importante oltretutto per rimarcare ancora di più questo aspetto il Beepop 2 ha qui vedete un led molto grosso quella parte bianca che ho respento che in realtà è un led rosso e si vede molto bene anche la sera ecco fatto ho montato le quattro eliche c'è il modo di riconoscere quale va diciamo nella parte sinistra e quale va nella parte destra pur essendo entrambe bianche sono diverse queste eliche perché come vi spiegavo prima una gira in senso orario l'altra gira in senso anti-orario questo è il drone montato fondamentalmente vado anche a montare la batteria non so sinceramente se è già a carico o no lo scopriamo a breve si monta in castro molto semplice nella parte posteriore come vedete c'è il led di cui vi ho parlato che serve per indicare appunto la parte posteriore lampeggerà rosso quando è in volo c'è una porta micro usb che serve per ricaricare il drone o per scaricare i file perché come vedremo questo drone non ha purtroppo dico io un lettore micro sd e una scheda micro sd per salvare i video ma solamente una memoria interna da 8 gigabyte questa è una scelta secondo me inspiegabile ne ho parlato molto durante la presentazione ufficiale di Parrot gli ho chiesto i motivi di questa scelta mi è stato detto che fondamentalmente è una scelta che si rifà alla user friendly così dovrebbe essere più semplice scaricare i file eccetera perché non devi scambiare schedine non so mi sembra un po' forzata come risposta in realtà avere un semplice lettore di micro sd che ospiti appunto schede e micro sd secondo me uno è più semplice e due permette l'espandibilità della memoria interna cosa non da poco visto che lui di base esce appunto con solamente 8 giga e non esistono altre versioni per esempio con più memoria davanti sul drone c'è un bel cap che nasconde la camera trattenuto da questo elastico che si va ad attaccare alla parte inferiore del drone quindi la parte frontale è completamente occupata dalla camera vedete riportato 3 axis image stabilization non è una stabilizzazione ottica purtroppo è una stabilizzazione digitale a tre assi quindi chiaramente è inferiore rispetto sia all'utilizzo di un gimbal ovviamente sia una stabilizzazione ottica la camera è un 14 megapixel f2 e 3 che è utilizzabile sia per scattare belle foto che per fare video chiaramente nella parte inferiore si vedono un paio di cose si vede questa qui è una piccolissima webcam aggiuntiva che viene utilizzata dal drone in quota per capire come è orientato fondamentalmente scatta di continuo delle foto al suolo e riesce in base a quelle a capire come è girato e quindi aiuta la stabilizzazione e la guida è uno degli elementi che fa sì che questo drone sia facilissimo da pilotare non solo qui di fianco c'è un'altra roba qui è praticamente un sensore che spara sotto i 5 metri di altezza cerca di capire fondamentalmente a che altezza è rispetto al suolo e come è orientato e aiuta insieme alla micro webcam appunto la stabilizzazione del drone stesso alla fine non c'è nient'altro all'interno invece del accessory box che vi ho mostrato al volo prima vediamo che altro c'è immagino cavetteria varia un po' di cartaccia la classica quick start guide che dopo mi leggo e questa qui è la chiave per smontare le eliche è comoda per appunto smontare le eliche facilmente per montarle si montano tranquillamente anche a mano per smontarle con questo è molto più comodo e questo qui è il cavo che direi collega la batteria a questo trasformatore che abbiamo visto prima e sarebbe per ricaricarla appunto questo è un normalissimo cavo usb micro usb per collegare il drone al computer e scaricare i file come vi dicevo prima e sotto a figo ci sono vari adattatori per il caricatore quindi per tutto il mondo fondamentalmente compresa chiaramente anche l'italia e quindi questo è una bella cosa invece che arrivare solamente con diciamo la versione italiana o europea arriva con tutti i diversi adattatori che si montano in questa maniera qua ecco fatto il mio trasformatore è diventato italiano ma all'occorrenza può diventare anche direi americano, australiano o inglese niente male questa è una cosa in più ok ho caricato la batteria vi faccio anche vedere come si accende fondamentalmente si preme il led rosso che vi dicevo prima quindi basta tenerlo premuto un attimo sentirete un bling una ventola a partire interna direi questi 3 bip segnalano che è operativo il drone in questo momento quindi il nostro Bebop 2 ha aperto una rete wifi sua proprietaria a cui ci si aggancia con il proprio smartphone o il proprio tablet vi faccio vedere l'app su Android su iOS è praticamente identica io lascio vedere su Android perché ho un tablet Android vabbè varie minchiate la prima volta che la apro anch'io ricorda più tardi facciamo così adesso non ci registriamo sulla Drone Academy come anche per DJI l'app in realtà è un enorme hub per gli appassionati di questo tipo di aggeggi per cui ci sono varie cose Drone Academy acquisto un drone ovviamente la guida Flight Plan ecco Flight Plan interessante questa roba qui Flight Plan è un acquisto in app anche questo è inspiegabile per me su queste robe Parrot non mi ha convinto appieno Flight Plan è una mega figata perché praticamente consente di impostare un piano di volo per il drone ho anche la batteria scarica un piano di volo per il drone diviso in diversi punti proprio via GPS tu dici prima vai qua poi vai qua e poi torna indietro eccetera e per ogni punto si può anche dire qui scatto una foto qui comincia a riprendere qui smette di riprendere qui inclinatini di 30 gradi qui giratini di 90 è veramente fighissimo peccato che sia un acquisto in app da 20 euro che io l'avrei incluso direttamente dentro l'app e sarebbe stato molto più figo allora viene creato come vedete un wifi bebop 2 bla 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 ci si collega a quel wifi lì una volta che si è collegati si lancia l'app di Parrot ed ecco che viene abilitata questa parte qui volo libero e se si entra dentro con calma ecco fatto allora vediamo in tempo reale quello che inquadra il drone in questo momento sta inquadrando chiaramente verso il basso qui abbiamo i controlli qui sempre disponibili tra l'altro la cosa figa è che si muovono vedete in base a dove appoggio il dito quindi non è necessario ricordarsi dove sono anche perché voi guarderete più che altro il drone sono gli stessi degli altri droni che vi ho fatto vedere quindi a sinistra alto-basso serve per alzarsi e abbassarsi di quota e sinistra-destra per ruotare diciamo orizzontalmente il drone mentre tutta la cloche chiamiamola così di destra serve a andare avanti e indietro quindi avanti e indietro e oppure inclinarsi sinistra-destra quindi andare a sinistra oppure a destra qui viene indicato per esempio la velocità in metri al secondo questo è un drone che raggiunge me lo ero scritto 18 metri al secondo come velocità diciamo orizzontale che sono 65 km orari quindi va molto forte invece come velocità di ascensione e di discesa si ferma si ferma sui 6 metri al secondo che sono comunque 21 km orari niente male quindi sale molto in fretta c'è un tasto take off qui che serve ovviamente a far decollare il drone ci sono poi diverse impostazioni molto comode queste per esempio serve a impostare come volete comandare il drone quindi si può passare tra tre modalità basi sono joypad quella che vi ho fatto vedere normale esperto questi sono i limiti di volo che si danno che si possono impostare al drone in questo caso è impostato a un'altezza massima di 30 metri a una distanza massima di 2 km in realtà il drone se comandato con smartphone o tablet ha una portata massima di 300 metri con questo Bebop 2 con il suo sky controller che è un telecomando esterno venduto separatamente arriva fino a 2 km di gittata diciamo di portata impostazioni di volo si può dare una velocità massima verticale e di rotazione impostazioni di registrazione modalità video quindi si possono impostare diverse robe l'antiflickering eccetera la modalità foto se salvare in dng jpeg eccetera eccetera l'impostazione dell'immagine si possono calibrare un po' i colori la sotturazione in questo caso vi ripeto che sta inquadrando fondamentalmente il fronte del drone vedete c'è un ritardo non fortissimo ma comunque presente attorno al secondo più o meno così occhio cos'altro le impostazioni di rete questo è molto figo allora si può chiaramente impostare diciamo le impostazioni della rete wifi che create ma oltre a questo si può passare da 2,4 a 5 gigahertz oppure anche tutto e soprattutto andare a scegliere anche manualmente diciamo la banda wifi in cui operare in base alle altre bande occupate vedete qui qui vi fa vedere tutto lo spettro delle bande wifi presente in questo momento qui in ufficio da me e vi mostra appunto dove è localizzata la banda attuale e dove potrebbe invece essere localizzata se io la sposto a 5 gigahertz per esempio andrà a liberarsi c'è poi una schermata che vi dà diciamo una diagnostica sui 4 motori presenti in questo caso tutti e 4 sono motori ok e altre informazioni generali quindi la versione del software e dell'hardware nient'altro non posso chiaramente farlo volare qui dentro l'ufficio ma a questo punto ci trasferiamo fuori e andiamo a vedere come vola questo drone di Parrot andiamo ok si siamo qui adesso in esterna vi commento che cosa è successo chiaramente qui stavo impostando un po' l'app poi premo il tasto take off e vedete che il Bebop 2 tranquillamente decolla e rimane abbastanza stabile come vedete poi si può comandare e muoverlo in giro per il cielo passiamo però alle inquadrature del Bebop così vedete anche un po' la qualità delle riprese il drone di suo non ha chiaramente non registra audio sarebbe totalmente inutile perché si sentirebbe unicamente il rumore delle eliche e poco altro per cui continuo a commentare un po' quello che abbiamo filmato completamente a caso stavamo semplicemente volando in qua e là questa qui tutta roba nera vediamo se va un po' avanti qui si gira vedete che comunque rimane abbastanza stabile eravamo qui sui campi attorno a Cesena qui siamo completamente contro sole per cui fa abbastanza cagare vediamo se sono abbastanza furbo da girare l'inquadratura bravo Antonio ecco già vedete che senza riprendere contro sole la qualità dell'immagine è migliore qui io stavo veramente testando i comandi per cui non state a guardare quanto sono diciamo poco pratico chiaramente si possono fare anche dei pan un po' più lenti rispetto a come lo sto facendo io qui sto tornando verso di noi vedete siamo lì in basso poi tento miseramente di atterrare in un'unica manovra poi se non ricordo male sbaglio il verso vediamo infatti vado dalla parte opposta mi giro ancora contro luce le peggiori riprese della storia dei droni però alla fine finalmente premo il tasto per atterrare è un tasto semplicissimo il drone è automaticamente a terra ed eccoci ancora in studio beh allora chiudiamo questo lungo video dedicato al Parrot Bebop 2 a chi consigliarlo beh chiaramente a chiunque si voglia avvicinare alle riprese con i droni come dicevo all'inizio del video dovete un po' considerarla come una specie di action cam volante anche come costi siamo attorno allo stesso prezzo di una ottima action cam questo Bebop 2 ha un prezzo di destino di 550 euro vi lascio il link in amazon sotto se vi interessa chiaramente i concorrenti sono agguerritissimi DJI sta per rilasciare il nuovo Phantom 4 e i Phantom 3 si trovano in realtà più o meno adesso sulla stessa cifra quindi valutate bene voi quali tra i diversi droni sul mercato scegliere in ogni caso questo Bebop 2 si conferma super facile da pilotare super stabile straordinaria cosa veramente fondamentale per questo tipo di droni la camera è diciamo tra il buono e l'ottimo non è eccezionale quanto altri droni ma questo è dovuto al fatto della non presenza di un gimbal ma solamente di una stabilizzazione digitale a tre assi di questa camera frontale però insomma è assolutamente uno dei migliori droni consumer presenti sul mercato Parrot ha sicuramente fatto scuola e ha creato un mercato dove non c'era e cosa da non sottovalutare se state valutando anche altri droni è i software Parrot è veramente al top da questo punto di vista le app sia per Android che per iOS sono fatte veramente molto bene addirittura Parrot mette a disposizione degli sviluppatori una SDK aperta che può essere sfruttata per sviluppare app compatibili che sono già presenti sui due diversi app store e aggiungono funzionalità per esempio ce n'è una molto figa che ti permette di farti seguire dal drone un po' come quel drone su Kickstarter che abbiamo visto mesi fa concludo se vi è piaciuto questo Bebop 2 se vi piacciono i miei video di Incaut Unboxing fate like fate share e ci vediamo al prossimo video di Incaut Unboxing ciao ragazzi